Un giovane soldato si innamora della figlia di un generale ma il loro amore è destinato a finire male. Lei sarà promessa sposa ad un ricco mercante e il padre farà di tutto per impedire un'unione con un militare di rango inferiore. La loro storia è scolpita nella roccia e cela un segreto su una nobile famiglia. Riuscirete a risolvere queste indagini del passato o la verità rimarrà nascosta per sempre.